Poracci è aspettato a Jeff Kifley l'onore di mostrare al pubblico il primo endzone del nuovo controller di PS5, il DualSense. Nella presentazione abbiamo avuto la possibilità di scoprire qualcosa in più sulla sua forma, vedere le sue funzionalità all'opera in un breve gameplay di Astros Playroom e infine, tramite una chiacchierata informale con Eric Lampell, capo del global marketing di PlayStation, ci sono state alcune importanti conferme al riguardo del progetto PS5. Prima di addentrarci nel riassunto dettagliato della conferenza mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi tutte le novità sul mondo dei videogiochi e di PlayStation. Il buon Jeff, anzi il Poro Jeff, ha finalmente mostrato un modello fisico del DualSense, non limitandosi ai render svelati durante lo State of Play di giugno. Il presentatore in modo molto intelligente ha fatto una breve comparazione con l'ultimo modello del DualShock. I messi l'uno accanto all'altro, il DualSense e il DualShock 4 condividono un layout generale molto simile, anche se il controller di PS5 è leggermente più grande. Dimensioni maggiorate che secondo Keyflay si riflettono su un peso di poco maggiore, mentre l'impugnatura ha un feeling simile ma decisamente più compatto e solido rispetto al DS4. Inoltre abbiamo potuto notare la totale assenza di back buttons programmabili, che si vociferava potessero essere una feature standard del controller. Jeff ha poi testato brevemente il DualSense su una demo di Astro's Playroom. È interessante notare che il colorato platform sarà preinstallato all'interno di tutti i sistemi PS5 e fungerà da vera e proprio demo tecnica delle potenzialità della console e del suo controller. In un certo senso svolgerà la funzione che assunse Wii Sports per il motion control della Wii. Il gameplay di Keyflay è stato editato per mostrare solo i momenti salienti del suo giocato e le immagini si sono concentrate su tutte le feature più e più volte ribadite del controller. I grilletti adattivi, il feedback aptico e anche l'altoparlante integrato, che a detta del creatore dei Game Awards offre una profondità decisamente maggiore rispetto a quella vista col controller PS4. Per quanto interessanti resta il fatto che queste feature, per essere apprezzate a pieno, vadano provate in prima persona. Vedersele semplicemente raccontate, anche se in modo entusiasta, non trasmette certo il loro potenziale rivoluzionario, soprattutto se accompagnate dalle immagini di quella che è una demo tecnica del controller, piuttosto che delle potenzialità della console. Anche la piccola intervista con Eric Lampella è stata interessante, sebbene il capo del global marketing di PlayStation non abbia svelato più di tanto sul progetto PS5, anzi è rimasto sempre piuttosto sul vago. Incalzato da Keyflay sulla retrocompatibilità, ha genericamente risposto che il DualSense è un elemento di rottura con il passato e che per quanto PS4 continuerà ad essere supportata, l'azienda crede molto nel concetto di nuova generazione e PS5 sarà un'esperienza completamente nuova rispetto ai suoi predecessori. L'idea è quella di proporre una nuova esperienza di gaming a 360 gradi, partendo da un hardware in grado di sfornare nuovi prodotti impensabili fino ad ora. Per questo PS5 è pensata come console a sé stante, piuttosto che un'evoluzione del brand PlayStation. Insomma, parole tanto belle quanto vuote, e oltre ad aver assicurato che l'azienda sta lavorando per donare al progetto una forte identità internazionale, spingendo al massimo la cooperazione tra le varie divisioni continentali di PlayStation, cosa che era venuta a mancare con la PS4, Lampella non si è sbottonato su quando saranno aperti i pre-order della console, né se saranno disponibili altre colorazioni al lancio. Sebbene l'utenza sia stra-impaziente di saperne di più su PS5, i giocatori dovranno accontentarsi di stare agli imprevedibili ritmi di Sony e della divisione PlayStation. Insomma, se da una parte ha fatto piacere vedere finalmente un modello concreto del DualSense, segnale che manca sempre meno all'arrivo della next-gen, dall'altro questo continuo teasing e rimando ad eventi futuri inizia ad essere veramente estenuante. Per avere informazioni più dettagliate come prezzo, data di lancio e versioni disponibili, parametri utili per vautare l'acquisto della next-gen, l'appuntamento purtroppo è rimandato alle prossime conferenze Sony. E voi poracci? Cosa ne pensate di questo DualSense? Ora come ora acquistereste una PS5 o ci sono ancora troppi dubbi intorno a questa console? Come al solito vi aspetto nei commenti, fatemi sapere la vostra, nel mentre se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per aiutarmi con la crescita del canale. Io sono il Michele Sense, Dual Poro, ciao! Ciao!